Va in archivio un mese di ottobre da temperature stabilmente sopra i 20 gradi ed è un effetto climatico che sembra avere anche risvolti sul commercio pesarese. In particolare sul comparto dell'abbigliamento che vive un preoccupante stallo sulla vendita dei capi invernali che va a mettere un ulteriore carico su un già diffuso calo dei consumi. Confeser Centine giorni scorsi ha inviato una lettera alla regione Marche per chiedere di posticipare i saldi invernali attualmente fissati al 5 gennaio 2024 e ripensarli per il prossimo primo di marzo. Un rinvio che invece Confcommercio invoca da anni anche per i saldi estivi. Richieste che ora arrivano sul tavolo del Consiglio regionale con una interrogazione portata da Andrea Biancani. Ho presentato appunto questa interrogazione urgente anche perché chi decide la data non è la regione ma è il governo ed è importante che la regione Marche porti questa esigenza in conferenza Stato-Regioni anche perché la data dei saldi, di inizio dei saldi non è una data che ogni regione decide a sé anche perché soprattutto i territori di confini come siamo ad esempio noi con Emilia Romagna sarebbe assurdo che ad esempio di Emilia Romagna gli sconti partano 15 giorni prima e ovviamente avrebbe un impatto negativo sulle attività presenti nel nostro territorio e quindi è per questo che l'inizio dei saldi viene definito a livello nazionale. Io mi auguro che la regione prenda sul serio questa richiesta perché le nostre attività hanno bisogno di sostegni in un periodo anche economico molto difficile perché ha un'attività riuscire ad andare incontro a questa richiesta che oggi hanno fatto mi sembra molto importante.